Lavori sull'autostrada 9, l'uscita di Como Montolimpino chiusa al traffico fino alla mattina di lunedì 15 novembre. Non c'è pace per gli automobilisti comaschi costretti a fare i conti con settimane da bollino rosso sulle strade cittadine e non solo. Da una parte l'infinito cantiere in autostrada e dall'altra gli interventi autorizzati dal comune di Como che dureranno fino al termine di ottobre. Intanto il calendario dei lavori sul tratto finale dell'autostrada 9 ha una data di fine. Il cantiere per l'ammodernamento e il consolidamento delle gallerie dovrebbe concludersi a fine anno, poco prima del periodo natalizio. Il condizionale però resta d'obbligo quando si parla di interventi e lavori, il cui avanzamento è legato inevitabilmente anche alle condizioni meteorologiche. Nel caso in cui i tempi dovessero però allungarsi, la catastrofe sul fronte viabilità sarebbe annunciata. L'impatto per Como sarebbe devastante, traffiche ed eventi di Natale sono un binomio che ogni anno, pandemia esclusa, si ripete puntuale. Quest'anno però si andrebbero a sommare anche i lavori in autostrada. Da mesi infatti il cantiere a ridosso del confine con il canton Ticino continua a creare non pochi disagi alla viabilità ordinaria a causa dell'emissione dei mezzi pesanti in città. Con la chiusura dello svincolo di Montolimpino per circa due mesi, sommata ai lavori in corso in città e agli altri mini cantieri che in questi giorni stanno per partire sulle strade comasche, il caos viabilistico è assicurato. Infine la questione che riguarda il futuro del cantiere in via Borgovica a Como dal comune di Como fanno sapere che l'amministrazione e autostrada ancora non hanno fissato un incontro per calendarizzare l'avvio dei lavori. Gli interventi all'acquedotto cittadino sono urgenti e non rinviabili, aveva fatto sapere nei giorni scorsi la giunta cittadina, ma ad oggi un piano per arginare l'impatto sul traffico ancora manca. Nel mese di luglio scorso l'apertura del cantiere in via Borgovico fece in poche ore collassare la rete stradale ordinaria con l'effetto di essere immediatamente sospeso. Ad oggi una data certa di inizio lavori e un piano per scongiurare il caos viabilistico ancora manca. Grazie a tutti.